Non lo ha affermato nemmeno il provvedimento dell'autorità giudiziaria che gli vetava di avvicinarsi alla sua ex compagna. Non ha mai accettato la fine della sua relazione continuando a perseguitare la donna. Così un trentenne pluripregiudicato, operati contro il patrimonio e la persona, è stato arrestato dalla polizia. In passato l'uomo era già finito in manette per maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna stessa. Esasperata e terrorizzata la vittima aveva presentato una denuncia, ma lo stalker non ci ha pensato due volte e nonostante il provvedimento della magistratura ha ricominciato a perseguitarla. Si appostava sotto casa della donna, la seguiva, l'aspettava sotto il lavoro. Più volte l'ex compagna aveva allertato il 113. Numerosi gli interventi delle volanti ma lui poi riusciva a fuggire senza farsi vedere. Fino all'altro pomeriggio quando la donna con estrema lucidità dopo averlo visto ancora una volta sotto casa ha chiamato la polizia con rapidità. Sul posto si è precipitata una volante che ha fermato il trentenne proprio vicino all'abitazione della sua vittima. Portato in questura è stato nuovamente arrestato e in attesa di un aggravamento della misura già impostagli.